vota per dire perché non ci sono alternative qual è l'alternativa democratica reale a questo partito non esiste nessuno siamo l'unico partito calato sul territorio l'unico partito reale l'unico partito che ha coraggio ci ha messo la faccia che si è sporcato le mani che ha portato a casa risultati oggettivamente non c'è alternativa perché votare votare altri che urlano noi abbiamo mai urlato non abbiamo fatto non c'è alternativa vota pd perché vota pd a